E' vista l'ultima improvvisazione di questo tempo e di questo prima semifinale che ha per titolo C'è la seconda me, 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 la seconda me che ha per titolo cronaca di un alto da fe, numero di giocatori massimo, re per squadra Capitonia, cambi di stile, in corso, guarda, mi besti o coi Bene, ok, capitolo è, ma ne da mangiare di un alto da fe, bene, vedremo una fara in astezzonso In categoria, idammico, 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 churante, rinnovizzazione, 3, 2, 4 Cominciamo con una catedoglia vita. Il lavoro mi renderà la tua assa. Ma che vabbè? Eh, dura labbrare sotto il sole. Anche tu, te la vanno. Te la cazzo un pochino. Quindi? In quella giornata, come gli ultimi due mesi, facevano un caldo torino. Quella era l'ultima lattina di Copacola presente nel dispensa. Prosegriamo adesso in rima. Com'è stata la lattina, ma non c'è più la lattina. L'ultima lattina l'ha venuta Caterina. Ah, a me vuoi guardare. Io ho la lattina per... Fino. La gente lo sa. L'ha visto di qua. E quella cola. Che era la propria persona. Eh, senza lattina devo fare una pausina. Adesso io tiro un pochino e vediamo se mi dà un chinotto. Per 10.000 euro un chinotto in un stereo. Per 10.000 euro. Facciamo 3 euro. 8.000 euro. Una regione italiana. Lombardia. Puglia. Puglia. In Pugliese. Puglia. Ehi. Che cosa c'è? Cosa c'è? Ehi. Ma ci sanno che un polizzi in red. Ehi. 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 Ma la mozzarella quella buona 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 ce l'hai. La buona buona buona. Andiamo fermo. Eh, che bello. C'è tutto. Cosa chiamo adesso che non ti puoi avere tutti quanti gli anni più? Oh! Eh, ragazzino che la direi non ti riconosco! Eh, hai fatto crescere la pappa! Eh, ti ho preso quella! Oh, scusa! No, io! E voglio avere una tette, eh? Io lo sto arrivando! Ma che è che va l'antogliano per il terzo? Nonostante la sede i ragazzi non vedevano la soluzione del problema! Ma si, stavamo arrivati un contatto! Mi metto un po' attorno! Stavo facendo una cronaca assieme? Sì, bene! E tutti insieme cercavano di andare... Fa la pace! Nessuno sapeva dove! Sono un po' confuso, non so dovevo andare! Andiamo avanti solo con suoni onomatopeici. Ma non so, non so! Non so, non so! Torniamo a parlare in italiano libero, via! Che mercedica, eh! Mannaggia! Ok, ragazzi, ho fatto due chiunque. Sì! Sì! Invece di fare foto, un'emozione? Tristezza! Andrea! Sì! Tutti su una gamba sola! Vabbè! Sì! 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 Sì!